parola d'ordine tranquillità diciamo così non è stata una partita nella quale ci siamo dovuti preoccupare in particolar modo era il nant e quindi non c'è assolutamente da esaltarsi non c'è da essere entusiastici ad essere contenti però per aver passato il turno nella maniera più comoda e serena possibile una partita che è anche difficile secondo me in questo momento da commentare perché la partita dura sei minuti partita dura sei minuti perché loro hanno avuto un approccio anche abbastanza aggressivo alla gara devo dire la verità non me l'aspettavo invece ho visto un nant che nei primi quattro minuti ha messo in difficoltà tra virgolette la juventus con una pressione molto aggressiva cosa che non abbiamo mai visto all'andata e che probabilmente era diventato un loro piano gara ripeto abbastanza sorpresa perché pensavo volessero ragionare dal punto di vista del ehi rimaniamo in partita finché si può e poi vediamo cosa succede ma di maria non era d'accordo con questa cosa e dopo appunto sei minuti cinque minuti un gol da cineteca un gol da cineteca credo il gol più bello dell'anno segnato dalla juventus a mani basse qualcuno prima in live mi diceva ma più anche del gol di fagioli alice come sì secondo me sì perché andare a impattare di prima questa palla all'incrocio dell'area di rigore metterla con quella parabola su quel palo in quel modo io non so quanti giocatori al mondo siano in grado di fare un gol del genere con questa semplicità picchiando la di prima intenzione non ne ho idea non lo so sono veramente pochi e quasi tutti hanno dei curriculum a livello eccezionale e di maria è un giocatore che probabilmente negli anni è stato molto sottovalutato è stato ritenuto un giocatore inferiore rispetto a quello che può fare quindi cinque minuti di maria mette il punto esclamativo su su questa gara e poi ci sono alcuni minuti un po di di confusione un po pallo al nant e poi nuovamente ci pensa di maria ci pensa ancora di maria perché al ventesimo minuto si va a procurare un calcio di rigore dopo aver deciso di andare a lottare su quella palla vincendo un rimpallo in maniera fortunata ma anche coraggiosa perché poi la fortuna te la crei e quindi di maria tiene in campo quel pallone tira in porta di tacco altro pezzo del repertorio dopo il tiro a giro all'incrocio dei pali il tacco e il dribbling secondo me quel rosso è un po eccessivo per il difensore del nant credo che sia calcio di rigore perché comunque lui va in scivolata la palla stava entrando però mi sembra un movimento anche abbastanza naturale abbastanza congruo del braccio quindi non so secondo me rosso è un po eccessivo poi da regolamento probabilmente è stata punita immagino la chiara occasione da gol perché senza quel braccio il gol sarebbe stato convalidato però se sei il nante e ti ritrovi sotto di due gol anzi sotto di un gol più un calcio di rigore che va a batter di maria più un uomo in meno contro la juventus penso che la partita possa considerarsi pressoché è finita infatti poi così è stato si chiude un primo tempo in realtà abbastanza equilibrato dove juventus e nante dal punto di vista del palleggio vanno a fare la stessa apprezzatura di possesso palla 50-50 la juventus va ad avere cinque passaggi in più del nante semplicemente all'interno del primo tempo poi secondo tempo è di gestione totale in cui la juventus prende in mano la gara non la fa più vedere agli avversari chiude con quasi il 60 per cento di possesso palla quindi una juve che poi nel secondo tempo stramerita di andare avanti stramerita di trovare anche il terzo gol c'era stato un palo di kostic nel primo tempo dove poteva probabilmente servire in posizione migliore fagioli dato che era praticamente a porta vuota però poi nel secondo tempo la fonte è costretto a diversi interventi alcuni difficili alcuni facili ma perché perché la juventus poi fa quel passo in avanti dal punto di vista mentale rispetto all'andata e cioè cerca di aggredire questa partita quindi possesso sì ma quando non è l'occasione va anche a chiudere poi non è riuscita a trovare in tante occasioni il gol del 3-0 3-0 che arriva invece da un altro colpo di testa di Di Maria questa volta vibra la goal line technology un po' come in occasione del terzo gol di Ronaldo con l'Atletico Madrid se vogliamo fare un parallelismo perché in Europa era da quella sera che la juventus non andava a fare la tripletta con uno dei suoi giocatori fenomenali fenomenale come è stato Ronaldo, fenomenale è Di Maria perché non ci sono altri aggettivi per descrivere un giocatore così importante Juventus che si porta sul 3-0 in un'azione molto confusa nella quale Alexandro decide di mettere i bastoni tra le ruote pure a Vlaovic che non riesce quindi ad impattare bene il pallone il gol era già stato fatto Di Maria aveva già di testa varcato la linea della porta difesa dai francesi e non c'è più partita non c'è più partita in realtà devo dire la verità sono stato molto deluso da Ken perché secondo me in una situazione come questa in cui la juventus poteva tranquillamente passare il girone passare il turno dello spareggio anche senza Vlaovic in un momento in cui Vlaovic dal suo ritorno in campo posto infortunio a gennaio si è dovuto fare tantissime partite ravvicinate e quasi sempre senza rifiatare anche magari a distanza di 2-3 giorni in un momento in cui Ken statisticamente rende molto di più a partita in corso piuttosto che da subentrato in un momento in cui la juventus non aveva chissà quale tipo di panchina lunga giocare con Ken dal primo minuto non mi sembrava assolutamente un azzardo anzi perché il Nantes visto all'andata è stato poca roba Nantes visto al ritorno è stato poca roba c'è stata una differenza abissale tra le due formazioni all'andata loro portano a casa un pareggio per tre motivi sostanzialmente il primo il palo riga traversa di chiesa il secondo la svista arbitrale in occasione del rigore non fischiato al 95esimo il terzo perché la juventus non va a chiudere la partita e si accontenta di mantenere soltanto un gol di vantaggio perché il Nantes ha fatto la partita che doveva fare per quello che è una squadra di un certo livello sicuramente distante dalla juventus si porta a casa il pari e al ritorno prova a vedere di fare il miracolo miracolo che non riesce proprio perché la juve e sulla juve più che la juve di Maria decidono di chiudere i giochi prima del tempo dicevo Ken quel pallone che ti dà Kostic ancora una volta neanche a dirlo su invenzione di Di Maria tu non devi andare ad attaccare Ken un po' pigro all'interno di tutta la partita un po' fuori dal gioco completamente distaccato da quello che invece è stato lo spartito proposto dalla juventus credo che sia necessario migliorare qua si è vista la differenza grande rispetto alla partita con lo Spezia perché c'era Di Maria non solo sulla qualità delle giocate di Maria ma perché è un giocatore che comunque la palla te la va a prendere anche tra le linee un giocatore che stasera te la risolve anche dal punto di vista del tabellino si porta a casa il pallone prima trippetta europea di Di Maria se ho capito bene da quello che dicevano in telecronaca molto contento per questo perché Di Maria da quando ha vinto il mondiale è un altro giocatore le prime cose post vittoria del mondiale che mi davano fastidio di Di Maria era vedere che anche nelle partite non controsquadre di primo pelo non controsquadre di primo livello magari te le giocavo un po' sugli allori adesso Di Maria fa la partita la prestazione contro tutti si mette a disposizione della squadra perché è un giocatore di qualità che ti fa anche la quantità non ha paura di andare a fare il recupero non ha paura di venire basso a prendere la palla ed aiutare la squadra in momenti difficili ed è un giocatore che negli ultimi metri ti fa fare gol ti fa gol ti fa la giocata ti fa il dribbling ti crea il calcio piazzato un giocatore che in fase di costruzione è indispensabile perché ti fa girare la squadra oggi siamo decisamente totalmente completamente Di Maria dipendenti Di Maria ci ha trascinato questa sera è stata veramente una partita nella quale devi semplicemente applaudire e ringraziare il fatto che ci sia sembrano passati millenni anni luce da quando si faceva buttare fuori contro il Monza con quel brutto fallo di reazione nei confronti di Izzo sembra un altro giocatore è lo stesso sembra un'altra stagione è la stessa sembra un altro contesto e forse lo è perché la Juventus stasera si qualifica effettivamente per gli ottavi di Europa League domani alle 12 ci saranno le strazioni per vedere contro chi andremo a giocare per il momento godiamoci questo trionfo per 3-0 perché in stagione non è successo tante volte di poter respirare quell'aria di tranquillità e di partita già sbrogliata dopo solo 15-20 minuti di gioco questa sera è capitato tanto abbiamo Di Maria Juventus che mai questa sera ha avuto il dubbio di non poter passare ripeto siccome è stato un po' esagerato quel rosso forse un po' pesante magari da regolamento giusto però lì la partita è completamente implosa su se stessa fatemi sapere un po' le vostre sensazioni totalmente meritato al passaggio del turno da parte della Juve tra andate e ritorno ha dimostrato di essere la squadra più forte probabilmente non ce n'era bisogno ma anche il campo ha detto questa cosa la cosa più importante secondo me stasera è che abbiamo veramente respirato quell'aria di squadra che sapeva che avrebbe vinto la partita e questa cosa ci mancava